Siamo con Giuseppe Statella. Giuseppe, oggi la palla non doveva proprio entrare, anche l'occasione che hai avuto tu a inizio del secondo tempo, ne è stato un po' l'esempio. E oggi è stata una partita tutta in salita, hanno trovato subito il gol dopo qualche minuto, poi hanno trovato un gol fortunoso, complicità di Andrea lì, in mezzo autogol, quindi è stato tutto in salita, poi la partita si è fatta sempre più dura. Molto freddo quest'oggi, però di fatto è già un po' stata archiviata questa partita, si pensa subito al Trapani. Per fortuna si gioca fra quattro giorni, quindi possiamo subito riscattarci e cerchiamo di chiudere l'anno in bellezza. 不要 ecce lì,ères! No ecce lì,ères! No ecce lì,ères!